Salve, cari e carissimi, benvenuti tutti quanti nel mio nuovo video. Io sono Zaire sui tarocchi, questo è il mio canale. Andiamo a vedere, facciamo questo interattivo, andiamo a vedere questa persona cosa pensa di me, cosa si aspetta da me e come desidera che vada a finire tra di noi. Quindi andiamo a vedere il suo pensiero, cosa lui si aspetta da noi e come si auspica che vada a finire tra di noi. Lo faremo andando a dividere con queste mie carte i tarot friend, faremo tre mazzetti dove appunto ci saranno le tre domande. Quindi la prima domanda, cosa pensa di me? Prenderemo uno, due, tre carte. La seconda domanda, cosa si aspetta da me? Quindi prendiamo uno, due e tre. E la terza domanda, cosa desidera o comunque cosa si augura che succeda tra me e tra voi e lui. Vediamo eh. Quindi che cosa spera o vuole o pensa che succeda tra di noi. Andiamo a prendere la prima parte. Quindi cosa pensa di voi? Sei di bastoni, paggio di coppe, nove di coppe. Allora, questa persona pensa di voi che siete intanto una donna meravigliosa, bella, vincente. Una donna che riesce sempre ad ottenere ciò che vuole. Con i sei di bastoni voi siete una donna che in qualsiasi cosa vi cimentate, vincete sempre la coppa. Arrivate sempre prima, simbolicamente. Cosa, che altro pensa di voi? Pensa che siete una donna che meritate proprio di essere corteggiata, amata, ammirata e soprattutto desiderata. E siete anche, pensa anche che siete una donna che meritate tutto il bene di questo mondo. Meritate un amore sincero. Perché, vedete, mettete sempre i vostri, la vostra persona, avete anche potere, date anche molto importanza alla vostra persona. E questo vi rende agli occhi suoi irresistibili. Andiamo a vedere questa persona. L'altra domanda, andiamo a vedere. Quindi, dunque, avevo detto cosa pensa e cosa si aspetta da voi. Ah, quello che si aspetta da voi è incredibile. Allora, qui c'è un momento di pausa, sicuramente. Qui c'è un momento di pausa, quindi questa persona un po' vi pensa, vedete, pensa a questa occasione perduta. Nel frattempo, lui, anche se si è dedicato molto alle sue cose, però ambisce sempre ad avere una vittoria. Vedete, qua c'è il pensiero dell'Oscar, no? Di vincere la statuetta, quindi di arrivare primo a un qualcosa. E si aspetta che voi facciate la prima mossa. Eh? Regina di coppe. Si aspetta che voi dimostriate il vostro amore nei suoi riguardi. Vediamo un po' cosa si augura che vada a finire, insomma, cosa spera che succeda tra voi due. Qui abbiamo l'imperatore, qua abbiamo il dieci di spade e abbiamo il nove di spade. Allora, è chiaro che questa persona, vedete, sta molto male per tutto ciò che è successo fra voi due. Quindi qua vedo una forte inadeguatezza sua, interiore. Questa persona dorme male, mangia troppo, beve troppo, soffre di insonnia, soffre di crisi. Perché poi le crisi che attualmente lo portano anche a, come dire, andare a scoprire alcuni suoi traumi del passato. È una persona molto prepotente. E quindi lui si rende conto, comunque, che ha sbagliato. Si rende conto che questo dieci di spade è successo un po' anche per la sua energia, per il suo modus operandi. Questo è uno che vuole sempre avere ragione, l'imperatore, quello il comandante per eccellenza. E quindi cosa spera? Spera di venire da voi con un bel mazzo di rose e chiedervi perdono. E soprattutto spera che voi non gli date una bella pugnalata. Nel senso spera di trovarvi accondiscendente. E spera che possa, in qualche modo, con la sua energia, comunque di un uomo affascinante, e possa superare questo momento gravoso che c'è fra voi due, e di riavere il vostro perdono. Quindi questo è quanto. Io vi ringrazio di essere stati con me. Appuntamento al prossimo interativo. Mi raccomando, un like. E vi invito cordialmente a iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, aiutatemi a far crescere il canale o a sostenerlo. Grazie infinite. Un abbraccio di luce. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.